Io, e anche perché questo rapporto tra storia e letteratura mi ha sempre incuriosito, perché la storia, che è l'altra mia grande passione, la storia si fonda sulla realtà, diciamo la storia è il territorio della realtà, ed è interessante, io non so se come gruppi lettura leggete, cioè quel gruppo anche politico che ho visto, leggono anche filosofi, leggete anche, ci sono i testi di alcuni storici del Novecento che sono scritti in un modo impeccabile, ma interessantissimo proprio come dibattito, ma la storia per me è il territorio della realtà, la letteratura è, semplificando un po', è il territorio della possibilità, e tra i due mondi però c'è una continua promiscuità, e io penso che il romanzo, il romanzo contemporaneo, nasce con il Don Quixote, ma nasce come parodia della storia, in qualche modo il Don Quixote nasce da una necessità di riparazione, mi piace questa espressione proprio, perché si scrive, perché il mondo appunto, in qualche modo si sente, si percepisce, si avverte l'ingiustizia del mondo, si vorrebbe cambiare, non si potrà cambiare purtroppo, o molto poco, però lo si fa, ci si prende una rivincita attraverso il romanzo, appunto dove si aprono tutte le possibilità, il Don Quixote che è la prima, è una grandissima parodia della storia, un'odissea, riprende altri, riprende Ulisse, poi ogni personaggio di romanzo riprende un personaggio precedente, Ulisse era andato per mare, lui va per terra, e ci sono anche lì, però è un prendersi gioco del racconto della storia, poi si sviluppa il romanzo in maniera più o meno consapevole come antagonismo alla storia, al racconto della storia, cioè gli scrittori che trafficano con le bugie, con l'invenzione, con la finzione, con la fantasia, l'immaginazione, in realtà non credono, proprio perché trafficano con la finzione, non accetta, non credono che il racconto della storia sia vero, cioè noi prendiamo per vero quello che ci hanno detto, e soprattutto gli storici, in realtà ogni notizia c'è tutta una discussione sulle false notizie, le false notizie, c'è uno storico, Mark Bloch, che ha scritto il libro Le false notizie di guerra, gli storici devono stare attenti molto più degli scrittori all'anacronismo psicologico, lo chiamano, cioè prestare a un'epoca di tre secoli fa un pensiero di oggi, è questo un errore, ma accade, ma soprattutto la storia è stata scritta in qualche modo dai vincitori, dal potere, in qualche modo da chi si è scritto poi anche per certificare, legittimare alcuni privilegi. Questa dimistificazione della storia viene fatta, secondo me, dal romanzo, questa è una funzione profonda, anche sociale, politica del romanzo, mette in dubbio il racconto della storia. In questo, Shasha, anche per me, è stato un altro degli scrittori che ho amato il più nella mia adolescenza, anche perché leggevo i siciliani, proprio perché per me leggere i siciliani era tornare a casa. Dico sempre che per me la cartina geografica della Sicilia o una cartina geografica non ha le città, io immagino sempre la mia cartina geografica ideale della Sicilia non c'è Palermo, Catania, ma c'è Berga, Shasha, Bufalino, Consolo. I siciliani, meglio di tutti, hanno per esempio scritto la controstoria di questo paese, cioè italiano. Hanno cominciato con Berga, con una novella che si chiama La Libertà, in cui lui è iniziato a riraccontare il risorgimento, ecco per esempio, in chiave però critica. Poi si sono passati il testimone, poi è arrivato De Roberto e ha raccontato nei vicere, l'affermarsi della borghesia, c'è una frase che meriterebbe più fama di quella del gatto fardo, cioè adesso che abbiamo fatto l'Italia, lui dice, dobbiamo farci gli affari nostri.